ed entra il prossimo concorrente vediamo chi è ooooh c'è il villaggio della foglia dalla saga di Naruto tu sei? Erika il po' ce l'ha 5G ha detto le più mille oggi e le più mille ok, non ho capito assolutamente è lunga la cosa cioè, a mezz'ora vedi piano, e comincia piano, le wind premi in mano il microfono chi sei? sono Erika e oggi ho portato i tachi Uchiha da Naruto i tachi Uchiha e il cognome ok, e fin qui non ci piove da Naruto, l'anime ok, poi? in versione alternativa che sia al femminile che nella parte metà anime diciamo quando risorge viene rianimato diciamo si però prima l'hai detto in mezzo secondo adesso ce l'ho ridice così come detto prima chi sei? no non ho... facciamo un applauso per i tachi da Naruto la versione femminile di quella, sì un solo grab in un solo momento in una sola immagine sì 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 vai 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 ringraziamo sempre il maestro Akira Tricano che venga il prossimo conto lente